È confermato, l'ex presidente catalano Carles Puigemont e i suoi ex ministri Tony Comine e Clara Ponsatì non godranno più dell'immunità parlamentare. Il Tribunale dell'Unione Europea ha respinto la richiesta di sospensione della revoca dell'immunità. La revoca è un provvedimento licenziato lo scorso marzo e ribadito adesso nelle aule di giustizia. Non vi è motivo di ritenere che le autorità giudiziarie belge o le autorità di un altro Stato membro possano eseguire i mandati d'arresto europei emessi nei confronti dei deputati e consegnarli alle autorità spagnole, ha sentenziato il Tribunale. Attualmente sono in corso i procedimenti legali per decidere se le autorità locali debbano eseguire la richiesta di estradizione della Spagna. Ma la battaglia non è destinata a finire in tempi brevi. Se la giustizia europea e le corti belghe dovessero dare un giudizio sfavorevole, Puigemont e Comine potrebbero decidere di andare in Cassazione e se necessario anche davanti alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.